Qui sotto posso scendere senza... Oh cazzo Oh Ciao a tutti siamo ritornati su Icarus dove Dove dobbiamo fare non so una missione quindi una missione speciale Non lo so di che cosa perché i creatori hanno messo una cosa che dovrebbe Intrattenerci Quindi hanno messo queste missioni E ci hanno dato anche del tempo quindi Non ci basta che scannerizzare le zone così Così c'è scritto in alto a sinistra E visto che in quella zona sono morto, sono crepato Devo per forza andare a recuperare il mio corpo che sta qua Ok? Sta qua Quindi questa è l'ultima zona da scannerizzare Come potete vedere al centro e in alto a nord Sono riuscito a sbloccarle Adesso devo solamente recuperare il mio corpo E sbloccare questa zona Nella prima zona ho riscontrato un grosso problema Eh, parecchi problemi riguardo agli orsi Poi al secondo c'erano sette lupi Per fortuna sono riuscito a finirli Salendo sulla roccia e colpendoli con l'arco Ok? Troppo semplice sto gioco Quindi Devo solamente camminare E proseguire sempre dritto vicino a questa montagna Che non posso neanche arrampicarmi Sono morto in quella zona A causa della tempesta Quindi una tempesta forte Non lo so Che cazzo è successo Mi ha Mi ha Non lo so Mi ha distrutto il casco Quindi non riuscivo più a respirare Mi mancava l'aria Lassopra Ok? Diventa sempre più bello Quindi ragazzi Non Scoraggiatevi Veramente Questo gioco è fatto molto bene Però ha bisogno di qualche aggiustatina Però Tutto sommato È È bello È bello Che dire È bello È molta strada ancora Dobbiamo fare Che ore sono? Le 10 del mattino C'è scritto In alto a destra Ok ok Ci siamo quasi Devo solamente Attraversare questo Settiero Maledetti animali Non muoiono mai Ho sentito un lupo Ah eccolo Ok Dobbiamo Proseguire Su Ok Allora Siamo arrivati Quindi non ci basta che Scalare questa montagna Perché sulla mappa Qui c'è il pallino Ok? C'è il pallino Quindi devo andare dietro Alle rocce Quindi così devo fare Ma c'è una caverna qua? No Non è una caverna Ok Ok devo salire qua sopra E la missione è compiuta Ah Iron Eccolo qua Lo cercavo E lo cercavo Da Da Giorni ormai Tutto questo Non mi serve Non mi serve Non mi serve Io con questo Faccio chiodi Faccio Tanta roba Ferro Ho sentito Ah ok Ok Qui appena arrivano Devo stare Attento eh Devo fare molta attenzione Ecco qua Ci siamo Ci siamo Ok sta Scannerizzando Ok Guarda diventa pericoloso eh Devo stare attento Andiamo 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 Sembra facile Ma non lo è Qui sotto posso scendere Senza Oh cazzo Oddio I Puma Uh Ah lo Jaguaro Ok sono morti Bello Bello lo Jaguaro La missione è finita Missions computed La missione è compiuta ragazzi Compiuta Ok devo solamente raccoglierlo Ok la missione è compiuta Siamo riusciti Ok ce l'abbiamo fatta Che Oh 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.